Potrebbero arrivare presto, già nel prossimo Consiglio dei Ministri, le norme per i lavoratori che operano nel caldo estremo. Una prima ricognizione delle possibili misure è stata effettuata nell'incontro al Ministero del Lavoro, con parti sociali, datoriali, rappresentanti di IMSS, INAIL e Ispettorato Nazionale. Partendo da una bozza di protocollo in 11 pagine, sono stati passati in rassegna dal Lavoro Agile alla Cassa Integrazione, per finire agli accorgimenti, per rendere sicuro il lavoro nei settori più toccati dall'AFA Record, agricoltura, edilizia, fabbriche, consegne a domicilio. Al termine del tavolo, la Ministra del Lavoro Calderone si è detta pronta a varare norme per consentire ai lavoratori del comparto edile di accedere alla CIG ordinaria, extra conteggio e all'utilizzo a ore della CISOA, la CIG per gli operatori agricoli a tempo indeterminato. Attualmente la Cassa Integrazione è prevista con causale eventi meteo quando la temperatura supera i 35 gradi, ma tale paletto potrebbe essere abbassato. Come indicato dal protocollo, i datori di lavoro potrebbero essere sollecitati a tutelare dal caldo straordinario i dipendenti più fragili, over 65, malati cronici o in stato interessante, rinviando le attività più pesanti alle ore più fresche della giornata, facendo ruotare maggiormente i lavoratori, prevedendo un maggior numero di pause in luoghi ombreggiati o climatizzati, sospendendo del tutto la produzione in casi estremi. Al lavoratore dovranno poi essere forniti acqua potabile, dispositivi di protezione personale, abbigliamento traspirante, copricapi e persino creme solari ad alta protezione.